Io ti lascio vado al mare, come bello respirare, di reality e tv, proprio non se ne può più. Io ti lascio vado al mare, come bello respirare, di reality e tv, proprio non se ne può più. Io ti lascio vado al mare, sono sola non pensare, che di crisi vado al mare, proprio non se ne può più. che bello ma che bello Lori da Milano dice vi adoro stupendo il tormentone nell'estate 2009 questa canzone mi torna la voglia di neve fateci un favore flip and flop Carlo da Lodi beh devo dire che comunque sta arrivando è proprio mare è proprio mare è da villaggio è da villaggio da mare com'è che si chiama quello che sceglie le canzoni la quello lì Saverio Ariemma questa è la sigla delle veline questa è la sigla del colgabibo di Paperissima Street Paperissima Street guarda Saverio Ariemma se tu questa la fai diventare la sigla di Paperissima Sprint ecco tu Saverio Ariemma ogni mattina che noi apriamo il nostro programma il modesto umile povero programma nel nostro piccolo cioè fidati noi ogni giorno ringraziamo Saverio Ariemma capito? ci sta raccontendo oggi voi che conoscete Saverio Ariemma cioè uno dice chi cazzo è Saverio Ariemma? ma c'è qualcuno che sa ah Saverio Ariemma dice quello che viene e c'è c'è gente che conosce Saverio Ariemma e come qualcuno parla l'inglese qualcuno non lo parla giusto quelli che parlano l'inglese mi stanno capendo cioè nel senso quelli che conoscono Saverio Ariemma adesso dicono cazzo lo conosco anzi gli mando un sms mandate un sms a Saverio Ariemma e dite Saverio Ariemma Marco Galli sta parlando di te alla radio oppure telefonategli mandategli un fax scrivetegli una mail Saverio Ariemma Marco Galli dice che alla radio se tu scegli ma siamo sicuri che sto cazzo è Saverio Ariemma che sceglie non è Antonio cioè non è Ricci Antonio Ricci ma Saverio Ariemma è quello che si occorre se Saverio Ariemma arriva e va lo deve chiedere il permesso ad Antonio Ricci per scegliere la sigla sai quanti adesso in segreteria telefonica diranno sono Saverio Ariemma allora chi ha l'ultima parola sulla sigla Saverio Ariemma o Antonio Ricci di solito lui Ariemma ah cioè Saverio Ariemma conta più di Antonio Ricci no no sulle sigle delle verine è lui che le sceglie ah è lui la responsabilità è sua sì perché che è il responsabile musicale di strisciano coreografo Antonio Ricci che è il prodotto è il genio della televisione secondo me perché Ricci cioè il papà di strisciano notizia e cammina sulle acque lui non va non va in ufficio in macchina lui cammina sulle acque però Marco si ascolta anche Antonio Ricci ben venga ma Antonio Ricci se Saverio Ariemma arriva da Antonio Ricci Antonio Ricci no secondo me è una cagata una cagata pazzesca perché è genovese e allora Antonio Ricci si allora si non scrivete a Saverio Ariemma non conta un caglio no scrivete ad Antonio Ricci mandate un sms ad Antonio Ricci si voi chi conoscete dite Marco Galli Antonio Ricci sta parlando di te perché se ogni giorno se Antonio Ricci tu sceglierai la sigla questa senti paperissima sprint ogni sera su canale 5 il gabipo presenta paperissima sprint almeno facciamo tutto alla luce del sole perché tanto ho capito va così le vanno così gli amici degli amici adesso allora voi avete la posta l'email di Antonio Ricci mandate ad Antonio Ricci Ricci chiocciola sarà media striscialanotizia.it cavolo c'è la sigla Antonio c'è la sigla del programma l'hai ascoltata te la facciamo sentire te la facciamo sentire va bene chissà come finirà questa storia riusciranno i nostri eroi Mice Squalo ad avere la sigla di paperissima sprint o delle veline o non è più facile che facciano loro paperissima sprint ah lo presentano chi decide chi presenta chi presenta Antonio Ricci Antonio Ricci allora Antonio Ricci scrivete scrivete ad Antonio Ricci con fiducia no l'altra Antonio Ricci scrivete con fiducia non ti lascia non ti lascia ad armare non ti lascia non ti lascia che bella che bella se con Saverio non va proviamo con Jurman Manuela da Verona ma Jurman cosa fa Jurman? amici aspetta Fabio che c'è qualcosa a Jurman cosa gli scrivono? a Jurman cosa decide? cosa fa Jurman? buongiorno sono Saverio Ariemma si sono Saverio Ariemma chi ha detto che non conta un cazzo? no nel senso buono no nel senso buono no Saverio Ariemma è un punto di riferimento c'è il presidente del consiglio e poi c'è Saverio Ariemma in Italia e lì in mezzo c'è Antonio Ricci perfetto abbiamo trovato proprio la gerarchia la gerarchia il percorso no adesso sarei curioso di capire però se Antonio Ricci cioè comunque dice no meglio sicuramente sendo il produttore lui deciderà però uno sai io credo che uno forte lasci la responsabilità ai suoi uomini di assumersela cioè io voglio dire anche quando parlo con gli Uzi con Pizza parlo con la mia squadra ognuno ha il suo settore io lascio molta responsabilità a ognuno di voi cioè Gallifactor Micesqualo infatti si sente il contenuto il basso contenuto del programma ma Micesqualo sono un po' i responsabili Fabio è responsabile di tutta la parte musicale la Betty e Leonora i contenuti le mail e io e Pizza che ci occupiamo invece di vita salutiamo Maurizio ciao Maurizio fratellone sì ciao fratellone grande Maurizio quindi Antonio Ricci cosa dobbiamo dirgli? no basta Antonio Ricci lui sa lui secondo la sua coscienza adesso troviamo le mail e domani facciamo proprio uno spam ma non hai il numero di Saverio Ariemma abbiamo l'indirizzo abbiamo l'indirizzo? è buon andaglielo che indirizzo? cioè dove abita? posso dirlo? ma no non puoi dirlo vanno sotto casa ma stai scherzando però sì ma dai va bene e scrivi con coscienza c'è gente che dice vota Ariemma c'è candidato all'europeo capitano io vorrei vederti a presentare striscia beh oddio anzi ferma un'altra ferma allora scrivete ad Antonio Ricci scrivete dite voglio galli e pizza a paperissima sprint sul banco grazie a tutti